e vedremo soprattutto ora come risponderà la Reier Venezia con l'assenza che sarà sicuramente prolungata dal parquet di Simonashevcik qui intanto c'è il ribaltamento del fronte d'attacco con Young che cerca la conclusione Stefano, la chiave della vittoria dell'andata della Montepaschi è la stata, la supremazia a rimbalzo invece in questa partita sia il pubblico del Palaverde per Fantoni intanto sempre più 8 la situazione per quanto riguarda il posticipo tra Reier Venezia e Montepaschi ora più 9 Venezia dunque che sta tenendo bene